allora eccoci qua questa sera facciamo madre di aronoschi 2017 e inizio io diciamo faccio un po un'introduzione e magari non tocco proprio tutto tutto poi magari qualche qualche cosa la dico successivamente come iniziare un film così complesso perché secondo me questo è uno di quei film che si prestano a tante letture interpretative e soprattutto secondo me tocca un po il cuore del cinema di aronoschi che devo dire a me è un regista che piace molto sia perché aronoschi ci ha abituato a questa speculazione metafisica dai sui primi penso proprio i primissimi film e anche perché ultimamente sta facendo un po delle una almeno con no è insomma fatto un po una rilettura delle dei temi biblici e questo film secondo me si presta ma penso che questa non sia neanche tra l'altro una linea diciamo originale interpretativa ma che sia un tema biblico insomma penso che risulti un po un po da qualsiasi parte si legga e poi secondo me è molto evidente ci sono proprio dei segnali ben precisi allora la trama se vogliamo stare alla trama la trama secondo me una di quelle trama molto banali molto lineari dove abbiamo una coppia abbiamo una casa e abbiamo però una casa è costantemente in basa in questa casa entrano costantemente delle persone è uno spazio quello della casa costantemente violato e se noi stiamo un po ecco a questo discorso della casa che sembra un po il punto centrale di questo film ci 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 viene un po complesso diciamo così iniziare a spiegare a spiegare a spiegare proprio tutto tutto e perché dico questo perché se chiaramente pensiamo che quella casa sia una casa all'interno di un mondo non si capisce di preciso per quale motivo tutte queste persone entrano escono fanno delle cose lì dentro allora secondo me un primo punto da cui si potrebbe partire per cercare di orientarsi un po in questo film e pensare che semplicemente quella casa non esiste cioè che in realtà quella casa non è una casa posta in un mondo dove ci sono altre case altre altre situazioni eccetera eccetera ma è sostanzialmente un uno spazio che è completo cioè quella casa non è appunto una casa all'interno di qualcosa di altro ma è tutto ciò che c'è e tutto ciò che c'è tant'è vero che spesse volte Javier Bardem dirà ma dove dovevano andare queste persone parlando proprio con Jennifer Lawrence dove dovevano andare gli serviva un posto e stanno qui e allora che questo film ripeto partendo da questo discorso che la casa secondo me è uno spazio totale e quindi necessariamente tutto ciò che c'è c'è all'interno di quella casa una casa che però Jennifer Lawrence soffre diciamo nel momento in cui è invasa cerca costantemente di rattoppare cercherebbe anche di proteggere per alcuni aspetti e d'altra parte anche spesse volte un po' derisa quando dice ad alcuni ma cosa state facendo qua perché non andate nell'altra stanza da giù quelli dicono ma noi dove dobbiamo andare cioè effettivamente c'è un po' questo aspetto paradossale di queste persone che non si spiegano di preciso dove dovrebbero andare cosa dovrebbero fare allora dicevo che che si rilegga il libro del genesi io penso che sia abbastanza palese abbiamo javier bardem che si chiama him lui egli abbiamo Jennifer Lawrence che è madre ovviamente madre natura quale quale madre dovrebbe essere abbiamo poi la coppia che si chiama uomo e donna cioè ad amo ed eva e poi abbiamo i figli di questa coppia che sono chiaramente caino e abele non disvegliamo nulla anche qui tutti quanti sanno e caino ad un certo punto ammazza abele e soprattutto viene cacciato viene cacciato via viene cacciato via e quando c'è un momento in cui ritorna nella casa dirà proprio a Jennifer Lawrence anche tu sei rimasta sola anche a te hanno abbandonato la natura viene abbandonata in questo questa lettura di aronoschi non è ovviamente non è una lettura positiva non c'è redenzione non c'è redenzione in questo film non c'è redenzione ma soprattutto non c'è neanche rispetto per la natura la natura è quello che viene costantemente violato e ciò che viene costantemente stuprato e ciò che viene costantemente violentato detto comunque questo quello su cui ci tengo a dire poi se mai mi fermo non tocco il tema della creazione che secondo me quella un'altra linea interpretativa però tutto questo sarebbe stato anche un po banale cioè si rileggere in chiave moderna perché noi vediamo che c'è la modernità ci sono i telefoni ci sono quelli che entrano armati coi mitra eccetera eccetera quindi c'è una modernità in questo film sarebbe semplicemente la lettura del libro del genesi in chiave moderna eh no però non non si limita a fare questo aronoschi secondo me c'è un punto molto importante nella configurazione di dio che dice proprio chiaramente di essere dio lui dice ad un certo punto proprio io sono colui che sono lo dice proprio a jennifer lawrence e quindi si dichiara esplicitamente come dio però che tipo di dio è che tipo di dio ci propone a ronosti in questo film e questo secondo me il il tratto il tratto innovativo di questo film perché non è il dio vendicativo della tradizione vetro testamentari non è neanche il dio punitivo non è neanche il dio d'amore si è capace di perdonare però non è questo il tratto particolare secondo me di di javier bardem in questo film ma è un dio narciso è un dio che gode del bagno di folla è un dio che ha piacere di mostrarsi a questa folla e di accogliere costantemente questa folla mentre la natura dice più e più volte mentre jennifer lawrence dice più e più volte ma mandali via ma basta insomma con queste persone lui gode è il dio della società dello spettacolo e il fatto che sia il dio della società dello spettacolo che gode appunto del bagno di folla del plauso della folla ecco unisce questa tradizione appunto vetro testamentaria che viene rievocata sicuramente in questo film con un altro aspetto che è quello della creazione che secondo me è un altro punto fondamentale però non lo tocco per non dilungarmi troppo voglio dare prima la parola a baina e poi semmai ci ritorno su questa cosa ok grazie marco ovviamente già detto praticamente tutto io appunto anch'io ho riscontrato talmente tante tematiche all'interno di questo film talmente tante chiavi di lettura talmente tanti piani e livelli come sono quelli della casa tra l'altro che sarebbe impossibile è anche insomma abbastanza brutto citarli tutti perché secondo me questo è un film che comunque si deve vedere nonostante sia stato un film anche molto criticato perché ricordiamo che è stato tra l'altro candidato ai Red Z Awards non è stato molto capito è stato anche un flop al botteghino ma questo in realtà insomma è successo quasi tutti i film di Aronofsky se stiamo a guardare quindi è sempre molto relativo questo dato mi ha colpito moltissimo fin dall'inizio c'è questa questa scena davvero molto molto simbolica di questa gemma che viene posta da colui che scopriremo presto essere un vero proprio demiurgo appunto su una una specie di puoi dire di di perno insomma e da qui a inizio tutto vediamo questa casa che prima era ridotta in cenere evidentemente per un incendio che riprende forma e riprende i colori di una casa molto naturale secondo mio punto di vista una cosa che infatti ho notato tantissimo sono i colori una casa in colori chiari colori naturali illuminata molto spesso in modo naturale con le candele una naturalezza che rispecchia parecchio quella di Jennifer Lawrence molto semplice la vediamo subito con questa camicia la notte molto davvero molto naturale molto semplice con questi capelli fluenti anche questi molto morbidi molto naturali un vestiario anche questo molto molto semplice e vediamo tra l'altro che questa sua caratteristica viene criticata da una delle prime come dire persone che iniziano a invadere la casa come aveva citato poco fa marco interpretata da michelle pfeiffer che interpreta invece una donna molto sofisticata elegante molto curata molto truccata con vestiti anche molto sexy provocanti e le dice chiaramente che dovrebbe essere più sensuale per il suo uomo questo è uno dei tanti aspetti del film e anche appunto il rapporto con con la nudità del corpo Jennifer Lawrence per interpretare questo film si è messa davvero a nudo in tutti i sensi infatti anche rilasciato una dichiarazione dicendo che insomma in un primo momento non era d'accordo far insomma a svelare alcune parti del suo corpo che poi vediamo durante uno degli atti di violenza del film che la violenza tra l'altro uno degli altri temi ricorrenti nella pellicola e insomma questo rapporto con la nudità con il sesso lui che non vuole avere rapporti con lei a quanto pare anche per un rifiuto della paternità questo è uno dei delle tanti chiavi di lettura del film che mi ha davvero molto colpito cioè il fatto che lei resti incinta praticamente con l'unico atto sessuale che quasi un mezzo stupro è molto forte questo film ci sono ci sono tanti riferimenti molto forti che non sono solo quelli cristologici e relativi alla creazione sono quelli relativi alla relazione tra due persone che diciamo la chiave di lettura forse più diciamo quella più semplice se vogliamo poi non posso e non voglio spoilerare perché ripeto secondo me è un film che va visto quindi non voglio rivelare cosa accade alla fine però è anche un film che si può leggere davvero come la degenerazione del rapporto uomo donna che cosa accade quando l'uomo rifiuta la paternità è come se rifiutasse la paternità del figlio e per abbracciare invece la paternità creatrice perché lui è un poeta e poi ovviamente questo film ci dice tantissimo sul rapporto con la creazione intesa come creazione di una un'opera d'arte che può essere appunto letteraria o altro e il rapporto con la fama e con la folla la folla è uno degli elementi ovviamente distintivi del film perché poi c'è questa vera e propria home invasion il film infatti si può leggere infatti in questa chiave diciamo di genere home invasion anche se molto particolare e poi questa violenza che degenera davvero un certo punto è quasi assurda ecco io mi fermerei qui perché vorrei aggiungere magari più tardi una riflessione invece su alcuni altri film che ho trovato collegati a questo adesso invece vorrei lasciare la parola barbara sentire cosa ne pensa grazie vaina a me il film è piaciuto molto l'ho rivisto in vista di questa conversazione ma l'avevo già visto due volte tempo fa e questa volta in questa visione mi sono concentrata perché comunque un film talmente stratificato che secondo me ogni visione è una visione è una visione nuova perché riesci a vederlo da un punto di vista diverso quello della coppia quello come diceva marco della genesi e questa volta per me è stato il processo creativo perché mi sono concentrata stavolta sul fatto che entrambi stanno creando qualcosa in quel momento lui ha la pulsione a dover creare questa poesia che comunque non riesce a creare e lei sta ristrutturando la casa quindi sta sta rimettendo rimettendo in piedi questa casa quindi entrambi hanno a che fare con materiali creativi che sono la penna la carta e invece lei più materica quindi lo stucco il colore eccetera eccetera e quindi sembrano due aspetti due modi di affrontare il processo creativo uno più interiore che quello di lei no che è infatti un processo anche più potremmo dire femminile no della creazione all'interno di se stessa quindi è molto introspettiva anche anche quando tocca la casa senza spiegare molto lei ha un rapporto con questa con questa materia non questa materiale parla e oltretutto questa materia in organica spesso diventa organica no ci sono degli aspetti in cui va beh senza spiegare molto la casa è come se prendesse vita come se potesse essere ferita come lei no è invece un processo creativo che si basa sull'esterno tant'è che lui appena l'occasione esce da questa casa la lascia sola lei sembra quasi imprigionata lei arriva sulla soglia ma non riesce ad uscire perché un processo creativo il suo intimo chiuso quasi mentre lui ha bisogno dello specchio dell'altro un processo creativo quasi narcisistico che si che si può espletare solo nello specchio dell'altro nel riconoscimento dell'altro e quindi questa volta mi sono concentrata su questo aspetto secondo me potrebbe essere letto anche così come la presentazione di due modi di affrontare un processo creativo processo cattivo di natura di natura artistica il film a me piace anche perché una commissione di generi anche questo film no il dramma l'horror il film catastrofico il film anche ci sono anche dei momenti di vera e propria azione e mi è piaciuto anche molto la scelta di non dare i nomi e personaggi e questo secondo me è un modo è un modo in cui la regista ci dice proprio che forse dobbiamo riempire noi quei nomi no quel quello mi anche se in alcuni casi come nel caso di michelle file fair e di erris è chiaro che si tratti di adam ed eva o di caino abele però loro due cioè lui e madre sono proprio due due personaggi che hanno più lettura che hanno veramente veramente più lettura la cosa poi interessante senza spoilerare il finale che comunque questo due questi due modi di affrontare il processo creativo forse portano tutte e due comunque c'è l'estremizzazione della dell'intimità con se stessi o l'estremizzazione invece del protendersi verso l'altro del darsi verso l'altro dello specchiarsi verso l'altro poi portano in entrambi i casi a una situazione comunque drammatica e niente poi casomai aggiungiamo qualcos'altro dopo sì allora io dico giusto due cose che volevo dire proprio a parte riprendendo da questo discorso proprio sulla sulla creazione perché c'è un certo punto un dialogo che a me è piaciuto molto dove lei jennifer lawrence dice ad un certo punto a javier barden che se vogliamo restare un po a quella mia lettura iniziale dovrebbe essere una sorta di dio dello spettacolo diciamo così dio spettacolarizzato dice ma io non ti bastavo c'è qualcosa in me cioè tu non mi hai mai amato perché non ti bastavo e lì lui da una risposta molto precisa da una risposta molto precisa da uno che rifletta c'è stata una riflessione sul sul discorso è la creazione perché la creazione è qualcosa che necessariamente mette in campo il divenire per far sì che possa esserci creazione c'è bisogno che ci sia divenire ma per far per far sì che possa esserci divenire tutto quanto non deve già essere dispiegato in un piano di immanenza eterno perché se fosse quanto se fosse già tutto dispiegato su un piano di immanenza eterno non ci sarebbe più nulla da creare e allora lui dice proprio questo dice sì perché effettivamente proprio questo mi dà lo stimolo a creare il fatto che non sia ancora tutto dispiegato non sia ancora tutto del tutto dispiegato ma attenzione però questo discorso del divenire tira in ballo un'altra problematica che affronta l'affrontano in tanti ma noi in italia abbiamo avuto emanuele severino che ci ha riflettuto molto su questa cosa per far sì che possa esserci creazione per far sì che possa esserci divenire c'è bisogno che qualcosa che è diventi altro da sé c'è bisogno insomma di quello che emanuele severino definiva lo squartamento cioè c'è bisogno appunto di una scissione di una separazione di uno smembramento e allora la creazione è sempre smembramento di cosa e di ciò che aristotele insomma io tutta quanta l'ontologia dice che incontra di un confutabile cioè il principio di non contraddizione del principio di identità per far sì che possa esserci creazione dobbiamo negare il principio di identità dobbiamo squartare il principio di identità e questo film tocca in parte anche questa tematica ecco volevo aggiungere giusto questo lascio la parola vaina che anche voleva aggiungere qualcosa sì volevo aggiungere un di cose sui su altri modi diciamo di leggere il film mi ha colpito molto il fatto che madre pur essendo la diciamo la costruttrice della o meglio ricostruttrice della casa sembra non averne mai visto le fondamenta infatti a un certo punto nel film vediamo che scopre le reali fondamenta della casa che sono anche il punto più vulnerabile della stessa e questo ovviamente si può leggere anche come una una sorta di analisi insomma le parti più oscure di noi che che vengono alla luce e poi invece ho letto questa dichiarazione dello stesso aronoschi su un'altra lettura del film che come citava marco in in apertura riguarda quella della distruzione della natura cioè questo fin si può vedere e poi anche insomma la struttura stessa si può vedere come l'uomo che incessantemente continua a distruggere la natura in tutti i modi e perché non sa dove altro andare ma dove altro potrei andare no questa appunto una domanda che viene posta molto di frequente appunto l'uomo dove altro potrebbe andare non ha un altro pianeta da infestare però ovunque vada riesce sempre a distruggere tutto questa secondo me è una lettura davvero molto molto pessimista e poi volevo aggiungere due cose riguardo invece ad alcuni film insomma che mi sono venuti in mente guardandolo la prima volta ho pensato questo sembra il begotten mainstream per chi non lo sapesse begotten è un film molto molto particolare che invito andare a cercare informazioni appunto anche lì c'è tutta una storia da leggersi in chiave di creazione e biblica molto molto inquietante e appunto questo film secondo me un pochino ricorda una ovviamente con tutta un'altra struttura e altre ramificazioni si intende e poi in una critica ho letto che l'atmosfera di paranoia può ricordare per certi versi il cinema di polanski anche se qui prende ovviamente tutta un'altra forma io però ci ho visto più che polanski un film invece italiano il profumo della signora in nero che per gran parte del film possiede quest'atmosfera di paranoia di complotto eccetera eccetera e poi invece nella parte finale ha una scena molto molto estrema anche in attesa se vogliamo e quindi insomma questo film mi ha riportato in parte una certa esplosione finale insomma che ho visto appunto nelle nel film di varilli solo questo allora aggiungo anch'io due cose in riferimento a polanski ho letto anch'io una cosa tra l'altro abbastanza divertente nel senso che il regista probabilmente è un ammiratore di polanski in alcune atmosfere lo ricorda però questo film lui ci ha giocato perché di una locandina che però non sono riuscita a trovare era praticamente il limitazione della locandina di rosemary's baby che comunque con questo film non c'entra proprio proprio nulla se non per l'atmosfera un po angosciante e poi soprattutto io trovo che il regista è stato bravissimo a comunque a traghettarci in due ore di film che è pesantino perché ci sono delle scene molto molto insomma difficili da digerire e ci ha traghettato con un portando il nostro il nostro livello emotivo altissimo l'ha fatto con una cosa tra l'altro molto semplice cioè inquadrare in primissimo primissimo poi io non sono un'esperta tecnica ma con un primissimissimissimo piano chiamiamolo così gli occhi di 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 lei di madre il film all'inizio è tutto giocato sulla nuca sugli occhi e sul viso di lei in modo che praticamente noi ci immergiamo in lei e quindi poi l'invasione che arriva dopo noi la viviamo con quasi come un'invasione personale cioè lui riesce a tenere a aumentare il livello emotivo eh perché eh comunque se se secondo me se lui non avesse avuto questa cortezza alla fine noi l'avremmo il pubblico la maggior parte del pubblico l'avrebbe vissuto come vabbè un film assurdo cioè queste persone aprono la porta di casa una persona che in quel momento ha bisogno e poi succede tutto questo ma com'è possibile e invece secondo me lui riesce a ehm traghettarci emotivamente perché ci mettiamo molto ci immergiamo molto in lei ci immergiamo molto in lei ed è la scelta dei dei primi piani del seguirla da dietro del sentire anche la sua tensione proprio corporea della schiena delle spalle eh ho trovato questo molto intelligente rispetto a un film che sennò eh poteva risultare semplicemente un film assurdo ecco va bene allora e cioè io fermerei qui cioè nel senso se se qualcuno vuole ancora aggiungere qualcosa penso che abbiamo detto abbastanza ma veramente un film che va visto e va visto tra l'altro è anche facilmente recuperabile in questa in questo periodo perché si trova su Netflix quindi eh è strano io 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 lo consiglio e anche perché noi non abbiamo anche perché giustamente non abbiamo potuto dire poi le parti più importanti perché chiaramente cioè sarebbe rovinare no no è giusto non dirle quindi quindi questo va bene allora grazie come sempre alla prossima ciao grazie a voi